E anche in questa giornata in cui festeggiamo il Natale, la venuta di Gesù a Betlemme, meditiamo sullo splendido prologo del Vangelo secondo Giovanni e ritroviamo Padre Ernesto della Corte. Buon Natale Padre Ernesto! Buona Pasqua! E tu pensi che io stia dicendo una sciocchezza? Eh, forse qualcun altro oltre a me. Cari amiche e cari amici, a Natale nasce il risorto perché la Pasqua, come ci insegna la liturgia che è maestra, ha la Pasqua come cuore di tutto l'anno liturgico. Colui che è nato è il risorto. È grazie alla resurrezione che noi torniamo sui nostri passi, come hanno fatto i discepoli, e capiamo il grande mistero. Ecco perché la Chiesa ci fa leggere Luca nella Messa della Notte e anche dell'Aurora, ma poi ci fa leggere il Vangelo di Giovanni, il famoso prologo che i preti dicevano a memoria dopo la Messa, dopo il Concilio ancora, e ce lo fa ripetere nella Domenica dopo Natale, il 5 gennaio, lo stesso prologo. Perché lì c'è una sorta di sintesi di tutto il mistero cristologico. È Natale, nella Messa qui di oggi, la Chiesa ci offre la meditazione di questo prologo, che è una postfazione. Io la chiamerei una splendida chiave che apre un po' tutto il Vangelo, non solo Giovanneo, ma direi tutta la realtà evangelica. Perché parte da Dio, in principio era il Logos, e poi lui è l'exeghesato, colui che ci ha aperto la via, che ci ha raccontato. Quanto è bella questa espressione, exeghesato. lui ce l'ha rivelata, lui ce l'ha raccontata. È veramente un verbo eccezionale. Per dire che cosa? Che lui è il culmine della rivelazione. Sì, il verbo si è fatto carne, che vale molto più di corpo. Ha preso la nostra storia, la nostra fragilità, desideri, emozioni, volontà, cammino, preghiera. Davvero un Dio che cammina per le strade del mondo. Direi che davvero il cuore di questo magnifico inno è proprio di leggere il Cristo, che è il Figlio di Dio, l'Unigenito. Lui per noi è parola. Parola, Logos, il latino traduce verbo. Ma ci sono quattro aspetti importanti che questo bellissimo inno ci mette davanti. Innanzitutto la relazione tra il Padre e il Logos, la parola. Per cui la manifestazione del Signore si fa sempre attraverso la parola. È la parola che ci viene data. Ecco perché è importante la parola custodita nelle scritture. Ecco perché noi cattolici abbiamo sempre la doppia menza, parola ed eucaristia. Per cui è interessante guardare a questo aspetto. È importante perché il quarto Vangelo legge tutto secondo questa parola. In secondo luogo ci dice anche un'altra cosa importante, e cioè la storia di Gesù di Nazareth va interpretata tenendo conto che egli è prima di ogni principio, ma con l'incarnazione entra nella storia. In terzo luogo il Padre si rivela pienamente nella storia di Gesù di Nazareth. Ecco perché Gesù viene a raccontarci questa relazione unica. Ecco perché lo chiama Padre mio, Dio mio, nella scena dopo la Pasqua con Maria Maddalena. E al tempo stesso Gesù è il volto del Padre per tutti. Ecco dunque le quattro grandi cose che ci presenta il prologo. E in ultima cosa il luogo si viene presentato la parola come vita, come luce, come grazie e verità. Cioè che cosa significa? Dio facendo incarnare il Figlio offre a noi la vita in pienezza. Quindi davvero fin dall'inizio in principio è un testo che ci ricorda quello che è il principio di tutti i libri biblici. Genesi, quando si parla Bereshit, Bereshit barai Elohim, et a Shammai, et a Arez, il Signore in principio creò il cielo e la terra. Qui in principio c'è il Logos, quel Logos che è davanti al Padre e che è Dio come il Padre. Siamo davanti a due grandi inizi. Genesi ci parla dell'inizio della creazione, l'atto di salvezza di Dio. Anche anni riprende e dice in principio è la parola venuta per la nostra redanzione. Quindi cosa c'è in principio? Il Logos, cioè la parola, il Cristo, quel Messia. È interessante, vedete, che tutta la Bibbia ci parla della parola di Dio, parola che si mette subito in azione. Per noi in italiano parola e azione sono due termini diversi, ma nella mentalità semitica, nella cultura semitica, davar, significa parola e azione. Esprimono la stessa realtà. Quando Dio parla realizza, quando realizza l'ha fatto con la parola. Ecco, in Cristo, dice Giovanni, c'è la parola e l'azione. Il progetto è anche la sua riferazione. Perché il Logos è luce e la luce è stata la prima realtà creata in Genesi 1,5. Quando Dio separa la luce dalle tenebre ed è il primo giorno, anzi, come dice il testo ebraico, è il giorno 1. Come il giorno 1 è quello della Pasqua. Ente de mia ton sabaton. Nell'uno dei sabati, Maria va al sepolcro. L'uno è il giorno anche della resurrezione. Il giorno della luce in Genesi, il giorno della luce pasquale nei Vangeli della resurrezione. In un certo senso c'è un progetto da parte del Padre. Che cos'è la parola che ci manda, cioè il Cristo, è il sogno eterno di Dio, di avere dei figli in un mondo di pace, di giustizia. Lo diceva Isaia qualche settimana fa, l'abbiamo commentato. Lui viene portando la pienezza dei tempi, si è fatto carne, meraviglioso. E il testimone privilegiato è Giovanni, Giovanni Battista. Sì, perché nel quarto Vangelo Giovanni non è tanto il precursore, la voce, come invece lo è in Matteo, Marco e Luca. In Giovanni il Battista è soprattutto il testimone, è il Martios, il testimone della luce, che però non è accolto dalle tenebre, cioè la realtà che si contrappone. Questa luce è apparsa. Giovanni lo riconosce perché lo spirito lo guida. Il mondo non lo riconobbe, dice così Giovanni. Ma in realtà il Battista ha avuto questo dono di vedere la colomba che si poserà durante il battesimo su di lui. E il prologo ci dice che quelli che hanno avuto la grazia, a quelli che lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. Chi sono quelli che lo accolgono? Quelli che credono nel suo nome. Molto bello. Perché il Logos ha messo la sua tenda in mezzo a noi. Si è fatta carne. Che indica carne nel linguaggio giovanneo? È la realtà fragile e storica dell'uomo. È l'umanità così come si rivela nel quotidiano. Qui carne non sta al posto di uomo, ma per condizione umana, sottoposta alle leggi del divenire, della caducità. Ma ci pensate? Il figlio di Dio, che è Dio, mette tra parentesi, dice Paolo in Filippesi, il suo essere Dio, per vivere a fianco degli uomini, come tutti gli altri. Esattamente uomo come tutti, con i capelli, con gli occhi, il suo modo di camminare, dovuto imparare a parlare, a pregare. È qualcosa di incredibile. Il mistero dell'incarnazione è davvero la passione di San Francesco d'Assisi, il quale meditava tanto sull'incarnazione. Il Logos, la parola, è apparso in tutto il suo splendore, però è entrato nella storia. Questo è il paradosso proprio cristiano. Nel senso che è entrato nella storia, ha messo la tenda. Quanto è bella questa espressione. In greco c'è il verbo schenoo, S-K-N, ma funziona anche in ebraico. S-K-N, la shekinah. Che cos'è la tenda? Che cos'è la shekinah, la tenda? La presenza di Dio. Quindi Giovanni ci sta dicendo che questa parola è proprio la shekinah, cioè la presenza viva di Dio in mezzo a noi. Il padre si rivela completamente nel figlio. Per cui in Cristo, che è l'unico redentore, ognuno di noi non solo riceve la rivelazione definitiva, ma riceve il dono di grazia di poter vivere la vita di Dio attraverso la parola e l'eucaristia. Abbiamo detto l'altra settimana che il Natale è incontro. Il Natale è un Dio che ci viene incontro, che vive in noi e noi che siamo chiamati a vivere in Lui per sempre. Parola ed eucaristia. Quanto è importante la celebrazione eucaristica? E quanto è importante una delle ultime espressioni di questo prologo? Dio nessuno l'ha mai visto. E noi invece possiamo dire, come dice Giovanni nella sua prima lettera, che i nostri occhi lo hanno contemplato, le nostre mani lo hanno toccato, le nostre orecchie lo hanno udito. Perché noi ogni domenica, Pasqua della settimana, anche oggi che è Natale, noi abbiamo la doppia menza della parola e dell'eucaristia. Siamo chiamati a fare esperienza forte della sua presenza. Sì, Dio nessuno l'ha mai visto, ma l'unigenito di Dio, cioè il verbo che si è fatto carne, Lui che è nel seno del Padre, ci guida a Lui, ci racconta il Padre, ce lo rivela, ce lo interpreta. E' una cosa davvero meravigliosa. Per dire che cosa? Che Gesù ci apre una via verso il Padre. Lui è l'unica via verso il Padre. Ecco perché nei discorsi dell'ultima cena, proprio al capitolo 14, al versetto 6, Lui dirà io sono la via, la verità e la vita. E' importante allora che il logos fatto carne è la via verso il Padre. E questa via è la stessa parola rivelata in Gesù. Cari amiche e cari amici, per questo la Chiesa da duemila anni, e lo ripetono anche tutti i papi, deve affidarsi continuamente alla lecce, ogni giorno, che è invocazione allo spirito, lettura del testo biblico, meditazione, pregare su quel testo biblico e poi contemplare, nel senso di capire con gli occhi di Dio la realtà che viviamo. Ecco perché l'ultima cosa che vorrei dirvi oggi, mentre vi agolo Buon Natale, cioè Buona Pasqua, perché ho esordito dicendovi Buona Pasqua? Perché c'è una relazione molto forte tra Natale e Pasqua. Viene tra noi, colui che poi compie per tutti il passaggio dalla morte alla vita definitiva. Il Natale, oggi, questa meravigliosa solennità, guarda la Pasqua. E il presepio contiene allusione alla morte, alla risurrezione di Gesù. Ecco perché Sant'Alfonso nel presepio metteva un piccolo crucifisso. È nato per darci la vita. Quel legno della croce, che viene ricordato anche dalla culla di legno, che noi in genere facciamo nel presepio. Papa Francesco ci ha esortato a fare il presepio. Che senso ha solo l'albero, non ha solo valore. Il presepe. E quelle pecore offerte dai pastori ricordano l'agnello immolato. La madre che si curva sul figlio ci richiama la pietà di Maria, che terrà poi tra le braccia il figlio morto sotto la croce. C'è la liturgia a Milano, ambrosiana, che si esprime così, in un inno, sul verbum saluti somnium delle ferie prenatalizie, nella quarta strofa. Dice così, stupisca la schiera degli angeli, si allitino i popoli tutti. L'Altissimo viene tra i piccoli, si chinano sui poveri e salva. Ecco il senso del Natale. Ci riporta al centro della nostra ritenzione. E cioè ci dà quella gioca che non avrà mai fine, perché viene a nascere per salvarci. Ecco perché possiamo dire buon Natale, ma oggi possiamo anche dire buona Pasqua. E allora buona Pasqua a te padre Ernesto e a tutti coloro che ci seguono come sempre fedelissimi. Alla via, alla verità e alla vita aggiungiamo la luce, la sapienza e la bellezza. Auguri di buona Pasqua. Buona Pasqua e buon Natale a tutti quanti voi. A te. Invenzamente nella gioia di Cristo che è nata. Grazie anche a te. Grazie a voi. Shalom. Shalom. Grazie a tutti.